in fila questo è il nostro oracolo è l'oracolo degli imprevisti su misura quindi voi qualsiasi domanda che avete potete farla al nostro oracolo e vi predirà il futuro dovrei dire una parola sola quindi la profezia risulterà da una parola testa da dove si parte? partiamo da lì da Marco ok da Marco una domanda per il futuro personale anche non troppo non troppo personale una domanda per il futuro una cosa che è qui e volete sapere come andrà a finire non tutti insieme però no no ma la ragazzariccia che si chiama? Marina Marina con il regalo vedrete che sarete inviato Marina mi chiederebbe chiedere ora volevo sapere il mio regalo di Natale da parte di chi? da parte dei miei genitori ok oracolo quale sarà il regalo di Natale di Marina da parte dei suoi genitori? se se fossi favore ti direi che il regalo non vieni da mamma e dal arcangelo Gabriele bene chi vuole interpretare interpreti occhio ti dico solo questo qualcun altro ha qualche domanda per l'oracolo? ragazzi è attendibile perché noi poi a gennaio le chiameremo Marina e se succederà una domanda per il futuro? per me non c'è l'aro è Marco dai Marco chi che vincerà la Champions? oh allora chi vincerà la Champions? iniziamo da qui questa volta si la squadra che non perderà sicuramente la vincerà vincerà bravo bravo con questo ho detto tutto l'ultima domanda per l'oracolo poi possiamo farlo continuare a mangiare le pizzette se no gliele fumisco io se questo inverno nevicherà tanto oracolo questo inverno nevicherà tanto? parte da da me da Marco il questo è tu inverno sarà molto strano perché la nebbia non è come quella di anticamente ecco la nebbia non è anticamente la nebbia non è anticamente è quella di che è un ha